musica raga io sono chiamatemi guerriere questo è il mio canale finalmente sono riuscita a far andare di nuovo sti cavolo di video oggi e ieri a sclerare raga non riusciva ad andare l'importante che abbiamo sistemato domani esce la pubblicità una pubblicità perché sabato ci sarà l'intervista e vi aspettiamo però domani faccio uscire la pubblicità che è più figa era solo per farvi un saluto augurarvi buona pomeriggio e ciao raga grazie e un abbraccio da chiamatemi guerriere baci musica